Grazie per aver scelto di guardare questo video prima di iniziare, ricordati di mettere like a questo video per sostenermi, commentare e seguirmi sui social per non perdere nessuna novità. Ciao ragazzi, bentornati su Martimio KTV e grazie per aver scelto di continuare con me, l'avventura su Parmiamoli Insieme. Come vedete dal titolo oggi c'è un tema molto complesso, cioè l'Italia. Io la definisco in un paese tanto storico quanto archaico e il motivo lo si spiega nella seconda parte del titolo, cioè il sistema e la burocrazia uccidono il progresso. Questo è l'argomento macro di cui andiamo a parlare oggi. E andiamo a parlare del fatto che secondo me siamo in un paese dalle grandi potenzialità e che finora mi hanno dato tanto rispetto a ciò che avevo prima. e quindi diciamo mi dispiace anche un po' andare a fare questo video, ma bisogna essere onesti e dire le cose come stanno. Per me è anche una questione di principi di giustizia e dobbiamo dire la verità, questa cosa, e la verità è che l'Italia pur avendo molte potenzialità non è preparata. perché siamo in un contesto in cui le potenzialità passano anche da innovazioni, da tecnologie, perché da una modernità che il sistema italiano non è più in grado di gestire, di conoscere e valorizzare. Questo passo dal fatto che non giochiamo in grado di gestire, non giochiamo in grado di gestire, purtroppo, anche se mi dispiace dire no, ma è la verità, mi pagano un paio di gesti, siamo onesti con noi stessi. al potere ci sono persone che anche solo per legge per arrivare a quel punto devono avere un'età avanzata, troppo avanzata, che danneggia la possibilità di influire in maniera positiva sullo sviluppo e l'avanzamento del paese, secondo me. perché appunto lo sviluppo passa dall'innovazione e non dico che le persone che ci sono ora non saranno mai in grado di farlo, ma di fatto ora non lo sono e stiamo perdendo un sacco di opportunità per via di questo. e per essere onesti dobbiamo chiarire il fatto che una persona come quelle che adesso stanno gestendo le cose può avere la lucidità e la prontezza di voler sviluppare progetti innovativi e che possono portare a un salto in avanti in termini di crescita. ma in questo momento, per quanto si possa fare, ci avviene di più gioventù, ci avviene di più intervento della generazione che è nata in questo mondo, di cambiamento di cambiamenti di cose velocizzate, perché di fatto adesso è tutto molto più veloce e molto più smart. e diciamo le difficoltà che ci sono legate al sistema italiano secondo me sono da attribuire soprattutto al fatto che a gestire il sistema italiano ci sono persone che non sono in grado di apporto di apportare un qualcosa in più e sfruttando quello che ora è disponibile a livello di avanzamento tecnologico soprattutto. e diciamo che questo rallenta tanto sia le decisioni, la promozione di attività che possono dare qualcosa in più, ma anche e soprattutto l'aspetto burocratico della funzione del sistema. per questo io spero un giorno di poter avere la possibilità di vedere un cambiamento di questo, di queste gerarchie, in cui ci sono persone indubbiamente sagge, indubbiamente competenti, ma ma che davanti al progresso non perché non siano capaci ma perché non non ci sono una tendenza fanno fatica e questo è un dato di fatto ragazzi siamo indietro, siamo indietro rispetto a tantissimi paesi e tantissime realtà che già sfruttano questi tempi, questi modi di vivere della società perché la società già usufruisce dei mezzi a disperdizione e già ne fa un buon uso in alcuni casi non tutti ma in alcuni casi se ne fa un buon uso ora il prossimo passo è fa sì che innanzitutto ci siamo un po' di gioventù ma soprattutto si usa tutto quello che ci è stato completo da questi nuovi tempi in nuova epoca anche nella politica anche nel cambiare il sistema delle modalità iter deve essere tutto velocizzato non si può avere dei tempi improponibili per per concludere delle cose così importanti che fanno la differenza per un intero paese e questo è il passaggio fondamentale per poter raggiungere le vette in cui l'Italia è già stata perché io riconosco l'Italia come un grande paese ancora adesso ma è un paese che sta stando indietro è un paese che si sta facendo schiacciare dalle grandi potenze e questo si sta perché il mondo ora gira attorno ai soldi quindi noi soldi purtroppo non ne abbiamo ci sta che le grandi potenze ci sovrastino anche se non mi fa piacere però si può capire e però la speranza di arrivare tra le grandi potenze io ce l'ho e questa cosa non arriva mai se non promuoviamo il progresso e una gioventù promettente la si deve tenere qui ok perché perché se si fornisce la formazione e diciamo che in alcuni campi in Italia la formazione è molto valida ma se si fornisce la formazione e poi si lascia andare perché l'Italia non è in grado di fornire uno sviluppo concreto della formazione che è stata offerta perderemo sempre più persone continueremo a formarne altri che andranno all'estero l'estero ci sovrasta sempre di più e non arriveremo mai al livello superiore non 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 punteremo mai ad arrivare fino alto questo è un discorso più complicato perché ha che fare con il mondo del lavoro e e con il problema dell'occupazione ok però tutto questo a pane mio potrebbe cambiare radicalmente se si osservassero delle piccole cose come per esempio dare più spazio a persone giovani e con iniziative e idee diverse innovative e propositive e farne e farne entrare nel mondo della politica perché in questo momento la politica ha bisogno di un cambiamento drastico che però non passa dal cambiamento di partito perché ormai siamo in un limbo in cui si si parla di partito diverso ma diciamo le ideologie rimangono sempre quelle quindi si va da una parte si cerca un'ideologia si va dall'altra parte si cerca un'altra ideologia che però nel tempo è stata in qualche modo inevitabilmente contaminata dall'ideologia apposta quindi adesso è diventato praticamente un miscuglio di ideologie che cambiando i rappresentanti ne vengono sempre quelle perciò c'è bisogno di qualcosa di nuovo c'è bisogno di qualcosa di diverso e io chiedo l'Italia chiedo chi mi sta guardando in questo momento però chi mi vuole ascoltare se è giusto pensare di rimanere sempre allo stesso livello oppure credete anche voi che sia necessario un passo in avanti e se la risposta è sulla seconda e si sente d'accordo con me quindi quello che vi chiedo è una spinta per provare a cambiare le cose perché questo è il momento di dare una scossa per avere qualcosa di più l'Italia mi ha dato tanto ma in questo momento c'è bisogno di qualcosa di più di un cambiamento che permetta di alzare il livello e arrivare più in alto non pretendo di toccare le nuvole perché bisogna fare un primo passo ma voglio arrivare al cielo e mi sento troppo aggrappato a terra perciò quello che dicono è la vogliamo insieme per spingere una politica nuova una politica innovativa e la crescita del paese è un'esercizio è un'esercizio si è un'esercizio